Era appena tornato a casa quando si è accorto che all'interno c'era qualcuno. I ladri erano già in azione quando, sentendosi scoperti, si sono dati alla fuga. In fuga anche i due complici che li attendevano all'esterno, in auto. È accaduto ieri pomeriggio a Benincaso una frazione di vietri sul mare dove i cittadini hanno attivamente collaborato con le forze dell'ordine per cercare di individuare i malviventi. I ladri infatti si sono dileguati tra le stradine della frazione, abbandonando poi l'auto e proseguendo a piedi. Ascoltiamo il proprietario dell'abitazione al microfono di Giancarlo Frasca. Due facevano il palo sotto casa e altri due stavano all'interno dell'abitazione. Io mi sono trovato a entrare in casa quando loro stavano uscendo da dentro all'abitazione. I due che stavano dentro sono scappati verso i pesi alti. I due pali, in pratica, sono scappati con l'auto prima sopra e poi sono riscesi. E così siamo riusciti più o meno a bloccarli qua, nello stretto, perché sono scappati con il russo. Hanno trovato le macchine che salivano e sono rimasti bloccati. Sono riusciti a scappare perché comunque ne erano due. Non stavano neanche a mani libere. C'è stata un po' di confusione perché volaggia e non riusciva a capire. Questi due qua sono riusciti a scappare nel primo momento e hanno rimasto la macchina bloccata qua, in mezzo alla stretta. Poi dopo che sono intervenuti i carabinieri, i rilievi e tutto il resto, la macchina sappia dove fare attrezze. Comunque nel secondo momento ci siamo ritrovati tutti perché ultimamente qui sopra ci stanno nonostante troppi casi di furti. Ed allora i cittadini si sono organizzati in gruppi vere e proprie ronde notturne per dare una mano alle forze dell'ordine. Ed in tarda serata hanno individuato in un vallone vicino, nascosto tra gli alberi, uno dei ladri assicurandolo alla giustizia. Si tratta di un romeno residente a Giuliano. A questo punto ci facciamo giustizia da soli. Abbiamo visto un po' come era la situazione, abbiamo scantagliato tutta la zona e li abbiamo presi, all'uno e mezzo, giusto? Più o meno ce ne siamo andati con una regola dove il conducente della macchina dove poteva stare, ci siamo imbattuti da questa terra con le torce a scendere dentro di lupi, come un casino. Fortunatamente sentendo i passi del ladro nel dirupo ci siamo regolati, più o meno dove stare con le torce, l'abbiamo trovata che stava steso a terra, si era anche inciampato, era caduto un tasso di lupo. E' stato sfortunato questa volta. Comunque la cosa importante è combattarsi tutti quanti e avere sempre fiducia nella giustizia. Noi in collaborazione con i carabinieri siamo riusciti almeno a ciuffare uno solo. Gli altri cittadini, purtroppo aspetto a loro trovarli.